Silvia Moretta, curatrice di Light Up, una grande performance legata alla illuminazione di luoghi di Giulianova. Come è nata questa idea? Light Up è un evento incentrato sulla light art. Questo il 2015 è l'anno internazionale della luce, secondo le disposizioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Light Up è un evento che vede come protagonisti teatisti diversi per formazione e per tecniche adoperate ed è un evento che nasce in linea di continuità con ciò che ha caratterizzato alla fine degli anni 70 gli interventi di arte contemporanea Giulianova. Con noi c'è Nausicaa Cameli, vice sindaco. Una idea molto innovativa, quella di illuminare la città in alcuni punti caratteristici. Come è nata questa idea, questa collaborazione con gli artisti? È stata innanzitutto direi una stupenda iniziativa patrocinata dal Comune di Giulianova e promossa dall'assessore alla cultura Pierangelo Guido Baldi. Io ringrazio la curatrice della mostra Silvia Moretta che ha veramente... io la ringrazio perché ha scelto Giulianova come primo luogo in Abruzzo dove fare questa mostra di arte contemporanea, questa Light Up. Pierangelo Guido Baldi, assessore della cultura del Comune di Giulianova. Light Up ci fa conoscere e riscoprire Giulianova in una veste completamente nuova. Beh, certamente. L'anteprima che ho avuto il piacere di gustare è senz'altro un fenomeno luminoso particolarmente bello. Ma voglio anche dire che non è la prima volta che Giulianova ospita manifestazioni di questo tipo. Già tanti anni fa nell'ambito di Agora appunto avevamo l'occasione di poter esibire i nostri luoghi preferiti. Questa sera centriamo la luminosità dell'evento sul Cursal, sulla vecchia scuola elementare che è stata meta di prima cultura di tante generazioni giugliesi e poi il sottobelvedere che è l'affaccio naturale della città alta verso il mare.